Ma con quanti bossoli arrivano? Questa è un'ottima domanda e ho una risposta per te. Abbiamo creato le prime pistole giocattolo realistiche che espellono il bossolo quando vengono ricaricate, che arrivano con un silenziatore, un set di proiettili e un set di bossoli che adesso conteremo insieme. Uno, due, tre, quattro.